Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilari Blasi ha lasciato tutti quanti senza parole. La notizia del loro divorzio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, provocando una tristezza infinita in tutti coloro che erano cresciuti negli anni con la loro relazione come esempio. Dopo un periodo turbolento, i due stanno cercando un nuovo equilibrio soprattutto per il bene dei loro tre figli. L'ex capitano della Roma ed ex calciatore della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'intervista al Corriere della Sera. Sul rapporto con l'ex moglie ha dichiarato Noi due abbiamo passato 20 anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambe due, di amore. So che non è facile, ma quello che c'è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti. La coppia ha ritrovato la serenità nel privato, lui accanto a Noemi Bocchi e lei con l'imprenditore Bastian Mower. Nel corso del tempo si sono lanciate numerose frecciatine, ma il capitano spera di riuscire a trovare la serenità con lei, garantendo così un futuro tranquillo ai loro figli, Christian, Chanel e Isabel.